Come puoi parlare di fallimenti? Sono andate alle elezioni con le regole di Maduro, con la loro candidata squalificata, con i loro partiti che gli avevano rubato le schedine, il simbolo del partito, con un sacco di leader in carcere, un sacco di leader all'estero, con più di 8 milioni del loro bacino elettorale che se n'è andato. Sono riusciti a vincerle, sono riusciti a dimostrare che le hanno vinte perché hanno messo tutte le loro schede elettorali su un sito, lo stanno dimostrando, lo stanno gridando tutti i governi del mondo, ormai stanno riconoscendo che l'opposizione, cioè non si può neanche più parlare di fallimento. Il 28 luglio ci sono state le elezioni presidenziali in Venezuela e sono state surreali. È andata così. Tutti sapevano che l'opposizione democratica al regime autoritario del presidente Nicolás Maduro avrebbe vinto. I sondaggi davano l'opposizione guidata dal candidato Edmundo González avanti di 20 o perfino di 30 punti e il giorno delle elezioni gli exit poll davano tutti Maduro perdente. E però, alla chiusura delle urne, il capo della commissione elettorale nominato da Maduro si è presentato davanti alla stampa per dire che Maduro aveva vinto. Non ha fornito dati, non ha fornito documenti, ha semplicemente detto che Maduro aveva preso il 51% e tutti a casa. Ora sappiamo che era una bugia. Perché anche se il regime autoritario di Nicolás Maduro si è rifiutato di mostrare i documenti che attestano il voto, l'opposizione è riuscita a ottenerne ugualmente buona parte e a dimostrare che Maduro aveva perso. Negli scorsi giorni ci sono state proteste che il regime ha represso con la forza. Al momento in cui stiamo registrando sono state arrestate 2000 persone e 16 sono state uccise in scontri con la polizia e con le forze di sicurezza. La situazione in Venezuela è molto delicata. Maduro non intende riconoscere la sconfitta e ha ancora dalla sua parte l'esercito e le forze di sicurezza. Al tempo stesso le elezioni hanno mostrato che è eccezionalmente impopolare nel suo paese. Sono in corso negoziati a porte chiuse che hanno coinvolto i leader di vari paesi della regione, ma la possibilità della violenza rimane ancora molto alta. Per questo ne parliamo con Stefano Pozzebon, giornalista di CNN, che copre l'America Latina e che ha trascorso le ultime settimane in Venezuela a seguire le elezioni. Ci faremo raccontare da lui che cosa sta succedendo nel paese, cosa sta succedendo a Caracas, qual è la situazione, come funziona la repressione del regime e come reagirà Maduro ai tentativi di far valere il vero risultato del voto. Questo è Globo. È un podcast del Post con un'intervista a settimana sulle cose del mondo. E io sono Eugenio Cao. Stefano Pozzebon, benvenuto. Grazie, è un piacere parlare con voi e con tutti gli amici del Post. Cominciamo raccontando che cosa sta succedendo in questi giorni in Venezuela. Il 28 luglio ci sono state le elezioni presidenziali e il presidente Nicolás Maduro, che governa il paese in maniera autoritaria, le ha vinte con ogni probabilità facendo ricorso ad ampi brogli. Diciamo in realtà quasi oltre ogni ragionevole dubbio facendo ricorso ad ampi brogli, rubando la vittoria all'opposizione democratica. Da quel momento sono iniziate grosse proteste, negoziati. Nel momento in cui stiamo registrando, che è lunedì 5 agosto, nel pomeriggio, Maduro ha detto che ci sono stati più di 2000 arresti e sono morte, sono state uccise dalle forze di sicurezza e dalla polizia durante le manifestazioni, almeno 16 persone. Ora, arriveremo a raccontare le elezioni, arriveremo a raccontare i brogli, la notte elettorale, l'opposizione e tutto il resto. Ma come prima domanda vorrei chiederti anzitutto se ci puoi dare un'immagine, un quadro di che cosa sta succedendo in questi giorni, fra proteste, repressioni, manifestazioni e così via. Sì, certo. Diciamo che Caracas, quantomeno Caracas perché è da dove ti parlo, Eugenio, è immersa in un limbo di spavento, nel senso che nessuno si fa dei dubbi su quale sia stato il vero risultato delle elezioni. Però ovviamente la repressione è stata estremamente feroce. Diciamo che rispetto ad altre ondate di protesta che io ho coperto qui in Venezuela dal 2016, 2017, 2019, questa volta la repressione è stata molto più feroce e soprattutto è stata molto più feroce nelle quelle che in italiano magari potremmo chiamarle favelas, che qua si chiamano i barrios, che sono essenzialmente i quartieri popolari o anche vere e proprie invasioni non autorizzate, però dove vive la grande maggioranza della popolazione venezuelana, o quantomeno dell'area urbana di Caracas, dove appunto per la prima volta domenica scorsa si è avvertito che il ciavismo, quindi il movimento di Maduro, avesse perso le basi popolari, le basi proprio di sostegno. Diciamo che io penso che l'opposizione stia cercando di giocare una linea estremamente difficile, ovvero usare la pressione delle proteste di piazza per poter continuare ad avere gli occhi del mondo su Venezuela, per poter continuare ad essere notizia, per cercare di continuare a mettere pressione sul governo, ma allo stesso tempo cerca di non esaurirla, nel senso sanno perfettamente che se chiamassero a proteste quotidiane tutti i giorni, nel giro di 3, 4, 5 giorni, una settimana, le proteste si esaurirebbero perché a nessuno piace andare a respirare dei lacrimogeni e quindi ci sarebbe una sensazione di fatica troppo grande e tra l'altro l'opposizione ha provato a fare proteste di piazza per anni e non sono mai riuscite a scardinare il governo, quindi la strategia dell'opposizione in questo momento è di cercare di ottenere qualcosa attraverso dei negoziati, soprattutto negoziati a corto e chiuse, soprattutto negoziati immediati da altri paesi della comunità internazionale latinoamericana a cui Maduro potrebbe ascoltare, a cui Maduro potrebbe dar retta, mentre usare la protesta di piazza per cercare di continuare a dire guardate che noi ci siamo, noi siamo importanti così, ma senza arrivare allo scontro. Sabato scorso ci sono state due manifestazioni, una dell'opposizione e una del governo e non c'è stato nessuno scontro, ad esempio, l'opposizione ha marciato, si è radunata in un quartiere tipico dell'opposizione, di classe media, nell'est di Caracas alle 10 del mattino, il governo si è radunato nel palazzo presidenziale, nell'ovest di Caracas alle 3 del pomeriggio, praticamente non ci sono stati contatti e vuol dire anche appunto quantomeno non ci sono stati arresti, non ci sono state vittime, perché appunto la repressione è stata molto feroce, c'è racconti di gente che mi sono venuto a trovare in casa, mi sono venuti a battere la porta di casa, le forze di sicurezza e la polizia del governo mi hanno portato via, ce ne sono tantissimi, 2000 arresti Maduro l'ha confermato venerdì in una conferenza stampa, calcola che le proteste sono iniziate il lunedì, calcola che lui l'ha detto il venerdì nel pomeriggio, quindi magari era il conto aggiornato al giovedì notte, sono 2000 arresti in 4 giorni, vuol dire 500 arresti al giorno, insomma stiamo parlando di cifre che neanche Pinochet magari, quindi davvero la repressione è stata estremamente feroce e quindi adesso c'è forse un ricalibrarsi della protesta, un limbo, un cercare di capire quale possa essere la strategia futura. Ricorda tra l'altro Eugenio che i due leader dell'opposizione, ovvero il candidato Edmundo González e la leader Maria Corina Maciado, che è realmente la gittatrice della piazza, però non le è stato permesso di partecipare alle elezioni, entrambi sono in questo momento nascosti, clandestini, per evitare di essere detenuti. Quindi è un po' una situazione bella complicata. E Maduro ha detto in un discorso di qualche giorno fa che entrambi dovrebbero stare dietro alle sbarre. Senti facciamo un passo indietro e torniamo alla notte elettorale venezuelana il 28 luglio. Diciamo che nei giorni, nelle settimane precedenti all'elezione, tutti sapevano che l'opposizione avrebbe vinto perché i sondaggi la davano avanti del 20-30% delle percentuali eccezionali, ma al tempo stesso tutti sapevano che Maduro non avrebbe mai acconsentito a questa vittoria. Avrebbe fatto di tutto per evitare questa vittoria, tanto che appunto noi ci siamo anche sentiti nei giorni precedenti alle elezioni. Eravamo lì che dicevano ma chissà, forse Maduro potrebbe cancellare le elezioni, forse potrebbe rendere illegale questo o quel partito. Insomma tutti si aspettavano che sarebbero successe delle cose. In realtà le elezioni vanno abbastanza tranquille, ma poi appunto nella notte elettorale succede che il capo della commissione elettorale arriva e annuncia la vittoria di Maduro. Ci racconti che cosa è successo? Sì, quella notte è stata abbastanza surreale, hai perfettamente ragione perché nei giorni precedenti il grande dubbio qui a Caracas sia tra diplomatici, fonti, colleghi, giornalisti era come riuscirà Maduro a farcela di nuovo. Perché nessuno si aspettava che il governo andasse a delle elezioni così aperte, nessuno si aspettava che l'opposizione riuscisse a unirsi, equalizzarsi, a creare un movimento dietro questo candidato Edmundo González e soprattutto che ci potesse essere un'uscita democratica, cioè una soluzione democratica alla crisi che qua in Venezuela dura dal 2013, 2014 praticamente, sono dieci anni che qua se le danno di santa ragione. Allora, nessuno se l'aspettava, noi abbiamo qua a chiederci se ci sarà magari un blackout nazionale come c'è già stato nel 2019, un'altra carta che poteva giocare il governo era dichiarare guerra a un paese vicino, la Guiana e in questo modo sospendere le elezioni, così alla fine si va alle elezioni, alle quattro e mezza del mattino, io quella mattina lì della domenica sono andato in ufficio perché iniziavamo le dirette alle sei e c'era già gente in coda, questa è una bellissima immagine per chi in Italia non vuole mai andare a votare e precipitandosi qui facevano la coda dalle quattro del mattino per poter andare a votare alle sei appena aprisse il seggio, ci si aspettava grossi disordini, ci si aspettava un sacco di cose, alla fine appunto la giornata è stata estremamente tranquilla, alle sei di sera già non c'erano più quasi nessuno che volesse ancora votare, ci sono stati ovviamente alcuni episodi di violenza elettorale, sicuramente di osservatori di seggio a cui non è stato permesso entrare nei propri seggi, ma stiamo parlando di poche dozzine davvero rispetto a un esercizio democratico estremamente tranquillo e poi intorno a mezzanotte il Venezuela ha un sistema di trasmissione di voti elettronico, quindi in teoria la trasmissione dei voti non dovrebbe durare più di un'oretta, però molto spesso il conteggio dura fino a tarda notte, intorno a mezzanotte arriva il presidente del Consiglio Nazionale delle elettorali, questo si chiama SNE, il presidente Elvis Amoroso che è un membro del partito di Maduro, che è stato diputato del partito di Maduro insieme ad altri due del Consiglio che sono in cinque, tre di loro sono parte del partito di Nicolás Maduro, annunciano che Maduro aveva vinto il 51% con una partecipazione molto più bassa di quello che si aspettasse, senza che nessuno se lo potesse aspettare dai sondaggi precedenti o dagli exit poll a cui noi avevamo avuto accesso nelle ore del pomeriggio di quella stessa domenica e quindi la domanda è stata come si arriva a questi numeri, semplicemente se li sono inventati, quella è stata la mia domanda, la domanda di tutti noi. Nei giorni successivi l'opposizione è riuscita a distribuire, a caricare online su una piattaforma, su un sito web più di 22.000 schede che ogni seggio elettorale, ogni seggio elettorale ha una macchinetta per il voto elettronico, questa macchina al momento della trasmissione del voto stampa tre schede che è il riassunto della giornata. L'opposizione è riuscita a raccoglierne 22.500 su un totale di 30.000 seggi, quindi una grossa percentuale e sono state distribuite e l'opposizione ha potuto quindi con dati alla mano, carta alla mano, carta canta, dire che loro avevano vinto con il 67%, che i numeri dati dal Consiglio nazionale elettorale erano completamente fasulli e soprattutto adesso siamo al 5 di agosto, l'elezione è stata più di sette giorni fa e il Consiglio nazionale elettorale non ha ancora rilasciato nessun dato oltre al Maduro ha vinto con questi numeri, l'opposizione ha perso però non ha dimostrato nessuna prova. Nel frattempo l'opposizione ha creato un sito, ha dimostrato di avere tutte le carte alla mano, nel sito si può andare stato per stato, municipio per municipio, cioè quello che tu ed io, Eugenio ed altri giornalisti che seguiamo la politica in tutto il mondo facciamo attraverso il sito delle elezioni ufficiali, cioè se ci fossero quali sono le politiche in Italia vai sul sito del Ministero degli Interni, mi pare sia il Ministero degli Interni, comunque il sito dell'autorità elettorale e puoi vedere nel mio paese a Merate ha vinto il centro-sinistra con X voti, nel tuo paese ha vinto a Milano, ha vinto il centro-destra con X voti, puoi vedere nei seggi chi ha vinto cosa, cioè è abbastanza evidente nel senso che nel 2024 la trasparenza elettorale dovrebbe essere la base, non un obiettivo. Qui in Venezuela dal 2015 non si fa questo esercizio di trasparenza elettorale, il Consiglio nazionale elettorale ha finora emesso, si è pronunciato solamente due volte, c'è stato il primo bollettino, lo chiamano bollettino, alla mezzanotte quando loro hanno detto che avevano scrutinato l'80% dei voti e hanno dato quelle cifre e venerdì scorso, il 2 agosto, venerdì, c'è stato il secondo bollettino dicendo abbiamo scrutinato il 97% delle schede elettorali, Maduro ha vinto appunto col 51% dei voti e così. Tutto il mondo, ma davvero tutto il mondo, dagli Stati Uniti, l'Unione Europea, l'ONU, l'Organizzazione degli Stati Americani, ma anche partiti di sinistra latinoamericani. Ieri c'è stato un discorso di Cristina Kirchner che è la ex Presidente argentina, è una che è sempre stata molto vicina al ciavismo, è una che ha le sue gatte da pelare in quanto a attitudini antidemocratiche, cose così, è sempre stata molto molto vicina personalmente a Maduro che ieri in un discorso anche abbastanza incendiato ha detto se qua non vogliamo bruciare, cioè ridurre tutto il nostro lascito di quello che è stata l'ondata rosa, la sinistra latinoamericana dell'inizio del 2000, dobbiamo vedere questi dati. Tutti glielo stanno dicendo a Maduro, Lula gliel'ha detto, l'ha detto Petro che è il Presidente della Colombia e finora non abbiamo ancora visto nessun dato, quindi quello è stato un po' strano. Diciamo che nessuno si aspettava forse che semplicemente fosse così palese, cioè così evidente, nel senso che il governo qui sono anni che vince le elezioni giocando un po' sporco, vince le elezioni squalificando un candidato, illegalizzando un partito, la maggior parte dei partiti dell'opposizione adesso ad esempio per una sentenza della Corte Suprema hanno avuto i loro loghi e i loro nomi bloccati e quindi vengono dati ad un altro partito, cioè ci sono un sacco di magaggi e giochi sporchi prima delle elezioni, diciamo che nessuno si aspettava che il governo semplicemente deve essere dei numeri che non esistono. L'aspetto forse più bizzarro è stato che hanno detto che lo spoglio dei voti si è interrotto per diverse ore a causa di un attacco di hacker della Macedonia del Nord. Noi abbiamo, grazie a CNN, abbiamo fatto una richiesta al governo della Macedonia del Nord dicendo avete avuto dei problemi di traffici, cioè potete dimostrare che ci sia stato degli indirizzi IP della Macedonia del Nord così e la Macedonia del Nord ci ha risposto a noi con un comunicato ufficiale dicendo nessuno dal Venezuela ci ha chiesto niente, non sappiamo di cosa state parlando. Continuiamo a dargli il beneficio del dubbio. Quanto sia lampante questo supposto frode elettorale è stato l'aspetto più bizzarro, diciamo che nessuno si aspettava che lo facessero in questo modo così evidente. Ti chiedo appunto di ragionare un attimo attorno a questo beneficio del dubbio, nel senso che effettivamente quello che è successo la notte elettorale è abbastanza surreale come hai detto tu. Tendenzialmente il regime di Maduro ha detto una bugia bella e buona quando gli exit poll dicevano che l'opposizione aveva vinto, loro hanno detto no ha vinto Maduro e quando gli hanno chiesto di far vedere i dati, appunto queste ricevute delle macchine per il voto elettronico, loro hanno detto c'è stato un attacco hacker che è un po' come dire il cane mi ha mangiato i compiti. Sì esatto, tra l'altro poi quello che è più assurdo è che è vero che ci sono stati diversi osservatori internazionali che non sono potuti viaggiare a Caracas, però alcuni sono venuti, c'era il Centro Carter che è un'organizzazione internazionale, indipendente, aveva qua 17 osservatori nazionali con di 11 nazionalità diverse, loro hanno fatto osservazione nazionale elettorale un po' in tutti i paesi del sud del mondo e hanno emesso un comunicato dicendo che questo è, a parte il clima precedente delle elezioni in cui appunto Maduro era l'unica faccia da trovare in qualsiasi manifesto, sulla schedina elettorale c'è la faccia di Maduro, c'erano 14 Maduro, 2 del candidato dell'opposizione e una dozzina di altri candidati minori che insieme non arrivavano al 5%, a parte il clima da appunto stai sfidando un governo autoritario, ma oltre a quello puoi semplicemente dire, mettere una faccia in televisione dicendo abbiamo vinto quel 51% così, dovete fidarvi dei nostri numeri, è peggio di Pierino che dice alla maestra è morta la nonna ieri, non ho potuto fare la versione di latino, ecco cioè è una cosa... Ok, adesso che abbiamo un po' raccontato queste elezioni, i brogli, raccontiamo invece i protagonisti di questa vicenda, finora abbiamo parlato appunto di Maduro, il presidente autoritario e abbiamo citato l'opposizione, alcuni esponenti dell'opposizione, raccontiamo un po' chi sono, nel senso che le due facce principali dell'opposizione sono Edmundo González che è il candidato presidente, quello dell'opposizione, della coalizione di opposizione, ex ambasciatore a 75 anni, è una figura diciamo che fa un po' effetto Joe Biden anche ai comizi, nel senso che la vera forza dietro l'opposizione come ci dicevi poco fa è Maria Corina Maciado che è la leader dell'opposizione a tutti gli effetti, ex imprenditrice e che adesso tuttora è la forza che sta portando avanti l'opposizione ma che però non ha potuto candidarsi perché qualche mese fa lo Stato, il regime di Nicolás Maduro gliel'ha impedito. Ci racconti un po' chi sono questi due? Allora, sì Edmundo ha 75 anni e quando lo intervisti si vedono tutti, è una persona che non ha mai fatto politica in prima linea, è stato un diplomatico di carriera, è stato ambasciatore appunto tanto in Argentina ma prima di andare in Argentina era stato in Algeria, era stato segretario di diverse ambasciate in Belgio, Inghilterra, Stati Uniti, parla facilmente tre lingue, io l'ho intervistato in inglese, lui parla perfetto inglese, ovviamente lo spagnolo, parla francese, probabilmente parla anche altre lingue, una persona molto colta. Edmundo si trova lì quasi per errore, nel senso che quando Maria Corina aveva vinto le primarie della coalizione dei partiti dell'opposizione, il governo ha confermato l'impossibilità per Maria Corina di essere candidata, la squalifica, Maria Corina ha scelto una seconda candidata, una seconda portavoce che si chiamava Corina Ioris, una professoressa di filosofia qui dell'Università di Caracas, il governo ha squalificato persino la vice e quindi mancavano poche ore e qualcuno ha tirato fuori dal cappello il nome di Edmundo González che praticamente lui era stato segretario della coalizione dei partiti dell'opposizione alle elezioni del 2015. Quindi quando nel 2015 la coalizione si era per la prima volta formata e registrata come coalizione ufficiale, lui era il segretario, non era il leader, era semplicemente quello che faceva le carte, che firmava le carte. Per quel motivo lì il suo nome è uscito, gli hanno detto guarda ti mettiamo a te tanto qua comunque le elezioni, probabilmente non le faremo mai, se le faremo saremo squalificati, è semplicemente per tappare un buco e poi praticamente intorno a lui si sono, mano a mano che la redatta delle elezioni si avvicinava, si è creato un certo entusiasmo. Io penso che Edmundo ha fin da subito capito che lui e Maria Corina giocano due ruoli diversi nella stessa squadra. Nel senso che Maria Corina è la, chiamiamola, passionaria se vogliamo, quella che infiamma le piazze, quella che regala l'entusiasmo. Mentre invece Edmundo è la voce calma della ragione, è stato molto difficile intervistarlo, mentre Maria Corina gli chiede un'intervista, ti risponde dieci minuti dopo. Con Edmundo arrivarci è molto difficile, è una persona che controlla molto attentamente le sue apparizioni in pubblico, lancia sempre dei messaggi estremamente conciliatori, ha parlato apertamente di amnistia, ha parlato apertamente di giustizia transizionale, quindi di creare una commissione della verità ed evitare un accanimento giudiziale per, se lui dovesse diventare presidente nei confronti dei membri dell'attuale governo, dell'attuale coalizione che sta al potere, ha parlato apertamente di un ruolo del chavismo nella Venezuela post-Maduro. C'è un ruolo delle forze di sinistra, o se vogliamo chiamarla di sinistra, perché ormai qua di sinistra c'è ben poco, e quindi credo che da quel punto di vista lì abbia generato enormi consensi, al punto che appunto si è rivelato un interlocutore abbastanza affidabile per chi adesso sta facendo le mediazioni, quindi per i vari Lula, Petro, Amlon, López Obrador che è il presidente del Messico, questi leader di sinistra democratici che stanno cercando di trovare una soluzione democratica a questa crisi. Edmundo sarebbe stato appunto un grande candidato di transizione, io ad esempio non mi ha risposto quando gliel'ho chiesto, però la mia domanda per lui era stata se avesse davvero intenzione di governare per un mandato intero. Qua in Venezuela il presidente governa per 6 anni, lui di anni in 75 si vede, è stanco, secondo me lui avrebbe usato il suo potere come presidente per cambiare i vertici della Corte Suprema, cambiare i vertici del Consiglio Nazionale Elettorale, trovare una situazione, un patto, una pacificazione delle forze armate e quello che lui ha sempre parlato è di reinstituzionalizzare il paese, che vuol dire che dopo 20 anni di ciavismo e almeno 10 di governo autoritario ovviamente le istituzioni venezionali sono completamente allo sfascio. Non è stato possibile, adesso è lui che sta avendo le conversazioni, sta gestendo i negoziati in prima persona con appunto i vari governi democratici e ovviamente in questo caso la sua esperienza diplomatica è molto più valida e molto più efficace che non Maria Corina. Maria Corina invece ha penso una cinquantina d'anni, è madre, però ha tre figli ma tutti e tre vivono all'estero, sono tutti e tre grandi, penso che il più giovane abbia 28 anni, quindi comunque vive qua in Venezuela da sola ed è quella che praticamente ha più capitale politico in questo momento perché è quella che è sempre stata coerente nella sua opposizione al governo, è una che già 15 anni fa quindi quando il ciavismo era all'apogeo lei diceva io sono una politica di destra, io sono una politica conservatrice, dice di ispirarsi a Margaret Thatcher, spesso te lo dice in diverse interviste, vuole appunto privatizzare metà della società venezolana, vuole privatizzare la salute, vuole privatizzare l'economia, vuole l'educazione, vuole privatizzare il petrolio, che qui è la fonte del 96% degli ingressi in dollari da parte dello Stato e è sempre stata molto coerente, mentre coalizioni dell'opposizione precedente, perché questa volta è la terza volta che fanno le primarie e lei non aveva mai raggiunto più del 10% perché si diceva che bisogna trovare un candidato che possa parlare allo stesso linguaggio dei votanti ciavisti, non puoi andare a rubare i voti a Chavez e a Maduro con un messaggio da Scuola di Chicago e Ronald Reagan, bisogna trovare un candidato che possa parlare la stessa lingua e la sua coerenza si è rivelata alla carta vincente quest'anno, al punto che appunto ha un enorme successo, ha un enorme successo soprattutto con i poveri, con chi naturalmente aveva sempre votato per Chavez e adesso si trova di fronte una leader iconica. Mentre gli altri leader precedenti dell'opposizione non avevano questo appeal sulla massa, questa relazione diretta col pubblico che è così comune, così tipica della politica latinoamericana, da Perón, Nevita, Lula stesso, Petro in Colombia, qua ovviamente tutti, Chavez è stato forse il più grande caudigio, quello che parlava direttamente alla piazza e Maria Corina ce l'ha quella relazione lì, cosa che invece ovviamente il mondo non ha assolutamente, il mondo è sì, un Biden o non lo so, un politico prodiano, molto moderato, molto attento, però appunto molto competente. È evidente che in questo momento il Venezuela sta giocando due partite a scacchi, da un lato la piazza, dall'altro i negoziati e quindi magari questo duopolio, questo Batman e Robin che si stanno giocando loro due può anche rivelarsi efficace. Bisogna anche vedere quanto Maria Corina, che è che negli ultimi 12 mesi è stata quella che ha dettato la linea, è stata lei che ha vinto le primarie, è stata lei che ha deciso di fare campagna viaggiando, lei non può viaggiare in aereo, quindi deve viaggiare tutto il Venezuela in auto. Venezuela è grande, sono otto volte l'Italia, quindi andare a fare campagna elettorale solo muovendosi in auto è abbastanza stancante. Lo sta facendo, l'ha fatto, è stata lei a decidere che Edmundo sarebbe stato il suo sostituto, il suo portabandiera, il suo alfiere e ora deve, si è arrivati a un punto in cui probabilmente il ruolo di Maria Corina passa un po' in secondo piano e bisogna vedere se lei lo accetta per esempio. Passiamo al regime a Nicolás Maduro. Maduro governa il paese dal 2013 dalla morte di Hugo Chávez che è il, appunto lo dicevamo, il fondatore del regime socialista attuale e come ci dicevi all'inizio queste elezioni hanno mostrato in maniera definitiva la fortissima perdita di popolarità e di Maduro ma anche dello stesso governo chavista, dello stesso, come dire, modo, della stessa struttura di potere chavista. Immagini che hanno colpito molto in questi giorni per esempio sono quelle delle statue di Hugo Chávez che sono state abbattute in varie città del Venezuela dalla dalla popolazione e Hugo Chávez, come raccontavi tu, è una figura che fino a relativamente poco fa era quasi universalmente ben voluta in Venezuela perché appunto aveva, era stato presidente in un momento in cui il prezzo del petrolio era altissimo, aveva fatto politiche sociali estremamente generose, aveva tolto dalla povertà un sacco di persone e così via. Adesso perfino la memoria di Hugo Chávez è stata portata via dall'impopolarità di Maduro. Ora non ti chiedo di farci tutta la storia di Maduro che sarebbe peraltro molto interessante, lui un ex guidatore di autobus, però ti chiederei insomma se c'è poi un minimo raccontare questa parabola e le ragioni di questa eccezionale impopolarità. Sì, allora diciamo che Maduro è nato come politico di sinistra, cioè le sue credenziali come uomo di sinistra non sono da mettere in dubbio da nessuna, è stato diverse volte a Cuba, aveva una relazione personale con i Castro anche indipendente da Chávez, era uno dei pochi civili che aveva seguito Chávez nel 92 quando aveva provato a fare il colpo di Stato, poi l'aveva, il colpo di Stato era fallito, Chávez era andato in carcere, Maduro era andato in carcere anche lui in quegli anni, è stato sindacalista, lui si vanta molto di essere appunto un autista degli autobus qui, dell'autobus del trasporto pubblico di Caracas ed è stato per anni il capo del sindacato, si trova a governare Venezuela nel 2013 e essenzialmente Maduro ha, se posso promettere, una sfiga terribile perché Chávez aveva creato questo modello di socialismo, tra virgolette, in cui praticamente lo Stato è talmente ricco che dispersa tutte le sue ricchezze, cioè le getta alle masse, regalando macchine, regalando automobili, frigoriferi, aprendo università pubbliche gratuite per un sacco di gente, creando essenzialmente la sensazione di uno Stato, uno Stato padre che ti dà soldi gratuitamente, cioè di storie, l'enorme passaggio di ricchezza dallo Stato alle masse, durante gli anni del chavismo ce ne sono diverse, ma essenzialmente l'idea non è neanche troppo diversa da quello di uno Stato del Golfo dove ci sono un sacco di soldi grazie al petrolio, li diamo a tutti e tutti sono ricchi, sono contenti, quindi non votano e rimane al governo. Quello è stato un po' il socialismo di Hugo Chávez, ovvio che a Dubai sono 200 mila, gli Emirati qua sono 30 milioni, quindi è più difficile. Maduro gli muore Chávez, diventa presidente e nell'estate successiva il prezzo del petrolio passa da 130 a 40 dollari al barile, quindi praticamente lui non ha più, cioè non ha assolutamente nessuno, non ha né il carisma di Chávez, ma soprattutto non ha il portafoglio di Chávez. Quindi inizia la crisi economica durissima, il governo rimane comunque fedele ai suoi principi, ricchezza condivisa, principi di il privato non funziona, bisogna avere la partecipazione pubblica nell'economia, ovviamente la partecipazione pubblica nell'economia non la puoi fare se lo Stato non ha più soldi, quindi la salute pubblica va allo sfascio, l'educazione pubblica è andata allo sfascio, queste cose qua. E questa situazione dura fino al 2019 in cui le principali proteste erano oltre che per ragioni politiche anche per ragioni di povertà, cioè io vivevo qua ad esempio nel 2016, nel 2017 a Caracas e ricordo che più volte mi è capitato di dover portarmi la carta igienica in valigia perché a Caracas non si trovava carta igienica, perché ovviamente Venezuela non è mai stato un grande produttore di altri beni, è sempre stata una nazione petrolifera, quindi vende petrolio e quindi importa tutto, quando lo Stato non può più importare non c'erano più beni di prima necessità, gli shampoo, il dentifricio, soprattutto beni di cosmesi erano quelli che più erano scarsi e quindi le proteste erano anche quelle, c'erano le proteste sulla fame, c'erano state le statistiche in cui il venezuelano in media aveva perso 8 chili, ogni cittadino aveva perso 8 chili a causa della crisi economica. Nel 2019 succedono diverse cose, c'è stata la sfida di Juan Guaidó che era questo leader dell'opposizione che si era autoproclamato presidente perché era in quel momento il presidente del Parlamento, l'elezione di Maduro era illegittima, così, però poi c'è stato anche un blackout nazionale che ha realmente marcato moltissimo la vita di questa nazione, cioè immagina che per 5 giorni non c'era elettricità in tutto il territorio nazionale. Di fronte a quella impossibilità lì, e con ovviamente l'inflazione era 1500%, cioè cifre folli, il governo praticamente ha dovuto, gioco forza, abbandonare il controllo ossessivo sull'economia. Quindi Maduro si è reso conto che a continuare a implementare delle politiche sociali ed economiche della scuola cubana avrebbe portato il Venezuela alla fame e ovviamente avrebbe fatto cadere il suo proprio governo, davvero non riuscivano più a mantenere l'elettricità, cioè era una situazione estremamente drammatica. E quindi lui e quella nuova generazione di chavisti che sono al potere adesso, che non sono quelli che erano assistenti di Chavez, ma sono tutti più giovani, erano tutti intorno ai 50, calcola che Chavez avrebbe avuto, quest'anno sono i 70 anni della nascita di Chavez, quindi è una generazione successiva. Quelli che sono al governo adesso hanno invece in mente un chiamiamolo socialismo della scuola cinese, un socialismo vietnamita in cui l'economia è essenzialmente privatizzata, c'è un capitalismo quasi ancora più sfrenato che a Wall Street, controllato da mafie, logiche di partito, interessi personali dei vari burocrati e da un controllo ferreo sulla politica. Però ovviamente non si può parlare di socialismo o di salute pubblica, cioè quello che io e te consideriamo la scuola del socialismo europeo, socialdemocrazia, l'acqua pubblica, la salute pubblica, l'educazione pubblica. Cioè qua invece è più il modello essenzialmente assolutamente cinese. Ora, arriviamo al 2024, la crisi economica è molto minore rispetto al 2017-2018, c'è una classe ricca, abbiente qui a Caracas, che Caracas è una città ormai molto più cara di altre capitali latinoamericane, però essenzialmente puoi trovare di tutto, nessuno di questa classe medio alta, abbiente, ricorda la penuria degli anni del 2016-2018-2019. C'è una grande massa della popolazione che vive comunque sotto la soglia della povertà, secondo alcune ricerche circa l'80% del Venezuela vive con meno di 3 dollari al giorno, che è la povertà economica secondo standard internazionali. Però, insomma, la nazione sembra in qualche modo funzionare. Ecco, la nazione sembra in qualche modo funzionare, come funzionano le nazioni dell'Africa subsahariana. Ecco, questa è un po' la situazione di Caracas, questo è stato un po' il patto che Maduro ha fatto con se stesso, con le sue basi sociali, con chi l'aveva messo al potere, per poter rimanere nel potere. Quindi è per questo che uno dei grandi falsi miti che io, quando parlo con amici in Italia, calco molto la mano, è dimentichiamoci che Maduro sia socialista, cioè dimentichiamoci che qui vengano in implementate politiche di sinistra. Perché, appunto, lo stipendio di un lavoratore pubblico qui in Venezuela sono 3-4 dollari al mese. Ecco, quindi nessun governo di sinistra può dirsi di sinistra quando tiene i suoi propri lavoratori alla fame. Aiutami un ottimo a capire questa questione dell'economia, nel senso, effettivamente è vero che negli ultimi anni gli indicatori macroeconomici del Venezuela sono migliorati rispetto a una situazione che era catastrofica. Il Venezuela, fino a qualche anno fa, si diceva, era il paese con il più grave crollo economico di un paese in pace. Cioè, per andare peggio di così doveva solo esserci una guerra. Al tempo stesso, però, come ci dicevi tu, appunto, la situazione a livello macroeconomica è migliorata. Si è creata una classe di persone che si sono arricchite, però appunto la situazione a terra, la situazione tra le persone normali, diciamo così, rimane ancora molto grave. Una questione che si cita tantissimo, so che anche tu ci hai lavorato molto, è quella dell'immigrazione. Negli ultimi anni 7,7 milioni di persone, che è un quarto della popolazione venezuelana, sono stati costretti a immigrare, no? Sì. Allora, io ho un'immagine che ho, ricordo aver intervistato qui un economista molto riconosciuto a Caracas, a Sdrubal Oliveros. Mi ricordo che parlavamo giusto di questo e lui mi diceva il Venezuela è passato da essere un paese di classe medio-medio-bassa, un paese latinoamericano, comunque con i suoi problemi, però non è che in Argentina o in Cile non ci siano sacche di povertà, ad essere un paese dell'Africa subsahariana come la Nigeria. Cioè, lui mi aveva proprio fatto l'immagine della Nigeria. La Nigeria è un paese che riceve la stragrande maggioranza dei suoi capitali grazie al petrolio. Il petrolio è in mano dello Stato, questo ovviamente crea corruzione, crea clientelismi, una scarsa distribuzione della ricchezza, favoritismi privati, queste cose qua. C'è un'enorme massa popolare che vive in condizione di perenna povertà, c'è un flusso migratorio costante, perché i nigeriani che vengono nelle nostre spiagge purtroppo continuano ad essercene troppi, c'è troppi nel senso che arrivano con quei viaggi così terribili. E quello è essenzialmente stata la trasformazione dell'economia venezolana. Diciamo che gli anni della crisi, 2015, 2016, 2017, l'iperinflazione al 1500%, quegli anni lì sono gli anni in cui l'aereo era impicchiata e adesso l'aereo ormai ha già fatto crash, ha fatto neanche l'atterraggio d'emergenza. Più in basso di così non si può andare praticamente. La situazione rimane critica per milioni di venezuelani, decine di migliai di venezuelani continuano ad emigrare tutti i giorni. Io nell'ultima settimana ho parlato con diverse persone che pensavano di emigrare, di abbandonare il paese nel caso Maduro riuscisse a mantenersi al potere. Alcuni già lo stavano facendo, c'erano alcune stimes che potrebbero migrare tra gli 1 e i 2 milioni di venezuelani nel giro da qui a fine anno. Cosa ti dicevano queste persone con cui parlavi? Che si rendono conto che il loro sviluppo economico, il loro piccolo essere dipende da se Maduro rimane al potere o no. E quindi dicono una volta che lui rimane al potere ho capito, io devo anche gestire un lavoro per i miei figli, voglio anche regalare ai miei figli un futuro migliore e preferisco andarmene io, magari me ne vado per il Darién che è questa tragica rotta migratoria a piedi attraverso la giunga tra Colombia e Panama per andare verso gli Stati Uniti e cercherò migliore fortuna altrove. Penso, io l'Africa l'ho coperta solamente una volta nella mia carriera, però immagino che le storie di migranti sono tutte, sono molto simili. Nel 99% dei casi è gente che cerca delle migliori opportunità da altre parti, gente che cerca spesso non delle migliori opportunità per se stessi, ma per chi gli sta intorno. Gente che o viene in Europa per poter mandare a casa soldi per i suoi propri genitori perché lì non c'è opzioni di lavoro o va negli Stati Uniti per voglio un futuro migliore per i miei figli. E si rendono conto che il Venezuelano in questo momento non può garantire a nessuno un futuro migliore finché Maduro rimane al potere. Quindi è finita la crisi economica, l'emergenza è per definizione un momento confinato, un momento breve, se no è endemica. Il Venezuela ormai è in una situazione di crisi economica, in una situazione di povertà endemica, cronica, maggiore, estremamente maggiore rispetto a tanti altri paesi dell'America Latina. Torniamo alle nostre elezioni. Vorrei soffermarci ancora sull'opposizione, perché appunto tu parlavi, hai citato alcune volte nel corso di questa nostra conversazione, i negoziati che sarebbero in corso. Questi negoziati a porte chiuse di cui Edmundo Gonzale sarebbe parte e che tendenzialmente dovrebbero cercare una soluzione che non comporti la violenza e che non comporti. Insomma, quello che ci avevi già raccontato è successo negli anni, alle precedenti tornate di elezioni, in cui Maduro, di rifa o di raffa, un po' usando la violenza, un po' usando i tribunali, i suoi alleati, un po' usando insomma tutto il potere dello Stato, uccidendo anche tante persone, perché negli ultimi anni sono state uccise un sacco di persone in Venezuela, nelle manifestazioni, nelle proteste e così via, è sempre riuscito a cavarsela. Ci puoi raccontare un po' come funzionano questi negoziati in cui, peraltro, appunto, come ci dicevi, stanno partecipando con vari ruoli anche vari paesi della regione e non solo. E soprattutto, che cosa vuole ottenere l'opposizione da questi negoziati? Sì, allora, io penso che l'opposizione non voglia… la prima esigenza, il primo desiderio è non perdere il capitale politico che si è creato con quest'ultima campagna elettorale. Nel senso che, dopo l'esperienza così fallimentare di Guaidò nel 2019 e durante la pandemia, il Veneziale era un paese che di politica assolutamente non ne voleva sentire parlare. Di cambi, di proteste, di azioni, movimenti, così, c'era un'apatia elettorale politica estremamente forte. Calcola che, appunto, come tu hai detto… Ricordiamo in due parole che cosa è successo con Guaidò nel 2019. Allora, Guaidò era un politico che era diventato presidente dell'Assemblea nazionale, quindi presidente del Parlamento, a gennaio del 2019. Casualmente, Maduro aveva vinto le elezioni precedenti presidenziali del 2018 attraverso enormi brogli e attraverso enormi dubbi sulla democraticità di quelle elezioni, giusto per essere essenzialmente cauti con le parole. L'Unione Europea, gli Stati Uniti, diversi paesi dell'America Latina non avevano riconosciuto l'esito di quelle elezioni lì perché non erano state legittimamente democratiche. Quindi Guaidò, c'è una clausa della Costituzione venezolana che dice se qualcuno usurpa la carica presidenziale, il presidente del Parlamento ha il diritto di chiamare alle urne dei cittadini e installarsi come presidente ad Interi, essenzialmente, come se lui volesse fare un impeachment a Maduro. Quindi c'è stata quella scena, il 23 di gennaio 2019 lui mette la mano sulla Costituzione, giura, si autoproclama, dice io sono il vero presidente e per cinque mesi Venezuela vive un'esperienza surreale in cui c'erano due politici entrambi a dire io sono il presidente. Uno con sostegni abbastanza univochi della comunità internazionale, gli Stati Uniti, diversi paesi europei, l'Italia stessa, lo riconoscono come il legittimo capo di Stato del Venezuela, lui viaggiava per la regione, mi ricordo una volta era nato a Bogotà, gli avevano fatto i saluti militari come se fosse davvero un leader straniero con il tappeto rosso, la fascia presidenziale, queste immagini qua e dall'altro c'era Maduro che era incarognato incredibilmente nel suo palazzo presidenziale però che continuava a avere le armi, i militari, le forze armate e tutto questo qua. Questa situazione dura praticamente fino all'aprile-maggio del 2019, il 30 d'aprile l'opposizione cerca di fare una rivoluzione, cerca di provocare una rivoluzione armata attraverso contatti che avevano con le forze armate, questa rivolta viene sventata, Guaidò si rifugia nell'ambasciata della Spagna, è dovuto rimanere qua nell'ambasciata della Spagna e quindi tutto quel movimento essenzialmente si cade come un castello di carte e per il resto dell'anno Maduro è tranquillamente assolutamente il leader incondizionato, il padre padrone di questa nazione ed è così fino appunto al 2024. La grande novità di quest'anno è che l'opposizione è riuscita in qualche modo a rigalvanizzare le proprie basi, è riuscita a rimettere la questione venezolana sulle prime pagine dei giornali del mondo, è riuscita a ripresentarsi, quindi penso che il primo desiderio sia quello di rimanere, di non disperdere questo capitale politico, non disperdere questa attenzione che questi leader del resto dell'America Latina le stanno prestando. Mentre l'opposizione vuole arrivare al governo, vuole mandare a casa Maduro e riportare il Venezuela ad essere una repubblica democratica, gli altri paesi della regione vogliono che non ci siano più migranti, perché ovviamente flussi migratori scaturano, fanno partire delle stesse dinamiche molto brutte, simili a quelle che viviamo purtroppo noi in Europa, con crescita di movimenti xenofobi, crescita delle destre in tutto il continente latinoamericano, crescita di politiche di porte chiuse e ovviamente, soprattutto pensa alla Colombia che ha ricevuto 2 milioni e mezzo di migranti venezuelani, la Cile ne ha diverse centinaia di migliaia, il Peru ne ha centinaia di migliaia, insomma nessuno vuole vedere altri migranti venezuelani camminare per le strade dell'America Latina e destabilizzare gli equilibri spesso molto fragili all'interno dei propri paesi. Quindi diciamo che questa è la preoccupazione di Petro, Lula e Lopez Obrador, che sono i tre presidenti rispettivamente di Colombia, Brasile e Messico che stanno in qualche modo mediando. Ovviamente l'opposizione invece vuole arrivare al potere, l'opposizione vuole arrivare, vuole avere il riconoscimento internazionale, vuole che qualcuno gli dica è vero, hai vinto, queste sono le tue actas, le tue schede elettorali e noi ci facciamo da parte. Bisogna vedere appunto quanto poi Edmundo Gonzalez voglia, veda il suo futuro come traghettatore verso una nuova reinstituzionalizzazione del Venezuela. Se lui ad esempio è disposto a dire ok gliela diamo vinta a Maduro per evitare un bagno di sangue perché davvero non riusciamo, però sappiamo che la prossima elezione parlamentare possiamo vincere di nuovo, non lo so cosa vuole fare. Ovviamente i negoziati sono estremamente tediosi, estremamente lunghi, è facile parlare adesso perché è dopo che il Venezuela è tornato alla ribalta e quindi ovviamente adesso Edmundo Gonzalez si chiama, probabilmente può parlare direttamente con Petro e Petro lo ascolta. Magari tra due settimane Petro ha i dati dell'inflazione in Colombia che gli arrivano e altre gate da pelare e ovviamente ogni ritardo favorisce Maduro, favorisce il governo attuale perché favorisce lo status quo delle cose. Vediamo come evolve la situazione, alcuni si chiedono se magari Edmundo, cioè sarebbe più di vantaggio all'opposizione se Edmundo riuscisse a scappare dal Venezuela, si trasferisse che ne so a Bogotà perché almeno potrebbe avere più colloqui faccia a faccia con i vari leader della regione. Insomma io e te stiamo facendo questa conversazione e abbiamo problemi di comunicazione perché l'internet venezolano non è esattamente Starlink. Immagina se sei un signore di 75 anni in clandestinità cambiando di casa in casa tutti i giorni perché se rimani più di tre notti nella stessa casa ti arrivano le forze di sicurezza. Insomma è ovviamente una situazione molto complessa quindi appunto ci si chiede se magari non avrebbe più senso per lui uscire e cercare di usare la sua esperienza diplomatica all'estero. Però vediamo. Quindi diciamo che ogni giorno che passa è un giorno in più a favore dello status quo cioè a favore di Maduro in un contesto in cui come dire magari tu ti sei fatto un'idea più chiara però non è chiarissimo quanto sia davvero stabile, quanto sia davvero forte questa opposizione nel senso che la piattaforma unitaria democratica che è la grande coalizione dell'opposizione tiene dentro un sacco di anime dal centro-destra al centro-sinistra. C'è questa dualità della leadership da un lato appunto Maria Corina Maciado dall'altro Edmundo González. Quanto è forte l'opposizione e quanto può durare ancora? Allora quando pensi all'opposizione in Venezuela l'immagine più vicina era il centro-sinistra italiano negli anni di Berlusconi. C'è presente le varie coalizioni che facevano l'Ulivo, il Partito Democratico dell'Asinello, di Prodi, così. Era uguale. Cioè lì è uguale. C'è un leader che vince le primarie, sei mesi dopo aver vinto le primarie iniziano gli storcimenti di naso. Eh ma lui ha detto questo, eh ma lui ha detto quello, eh ma non siamo d'accordo ma io quindi, che ne so, Bertinotti che toglie l'appoggio al governo di centro-sinistra sulla guerra dei Balcani apposta. Cioè cose così. L'opposizione è esattamente uguale. In questo momento Maria Corina Maciado ha vinto le primarie coal 90% anche perché la stragrande maggioranza degli altri leader oppositori degli ultimi dieci anni sono o all'estero o in carcere o sono, non possono correre. Quindi ad esempio un altro leader molto importante di qua, Enrico Capriles, che ha sfidato Chavez nel 2012, ha sfidato Maduro nel 2013, è stato per anni la voce principale dell'opposizione. Lui ad esempio si è automaticamente messo da parte durante le primarie dell'opposizione perché ha detto io tanto so che non mi faranno mai competere, è inutile che io mi candidi come candidato quando ho un ordine che mi impedisce di correre. Maria Corina invece ha voluto comunque giocarsela, ha voluto almeno diventare la leader riconosciuta e legittima dell'attuale coalizione oppositora. Diciamo che la più grande debolezza qua a Eugenio è che l'opposizione non ha contatti con i militari. L'opposizione non è riuscita ancora a far passare il messaggio ai militari che starebbero meglio con loro che con Maduro. Finché Maduro continua ad avere i fucili, finché Maduro continua ad avere i carri armati e finché tutti i militari stanno dalla parte di Maduro, è difficile immaginare una situazione diversa. Ovvio, siamo in Venezuela, quindi qua magari domani un generale si alza e decide di fare il colpo di Stato e tira fuori 5-6 carri armati e marcia su Caracas. Possibilissimo, potrebbe tranquillamente succedere, così come può succedere che Maduro arrivi a 80 anni e governi per i prossimi 15 anni senza problemi. Penso che il più grosso fallimento, se così vogliamo chiamarlo, però allo stesso tempo ha un'opposizione, anche a loro. Come puoi parlare di fallimenti? Sono andate alle elezioni con le regole di Maduro, con la loro candidata squalificata, con i loro partiti che gli avevano rubato le schedine, il simbolo del partito, con un sacco di leader in carcere, un sacco di leader all'estero, con più di 8 milioni del loro bacino elettorale che se n'è andato. Sono riusciti a vincerle, sono riusciti a dimostrare che le hanno vinte, perché hanno messo tutte le loro schede elettorali su un sito, lo stanno dimostrando, lo stanno gridando tutti i governi del mondo, ormai stanno riconoscendo che l'opposizione… non si può neanche più parlare di fallimento, se possiamo chiamare la più grande debolezza dell'opposizione sia non essere riuscita ad avere dei canali con i militari, con le forze armate, perché ormai l'unica uscita da questa crisi passa per un ribilanciamento degli equilibri bellici. Maduro solo con la pressione internazionale e Maduro non si muove. Diciamo che prima dell'elezione tanti si chiedevano, io stesso, perché Maduro va all'elezione? Cioè è un governo che già è autoritario, è un governo dove già lui gestisce tutte le leve del potere qua in Venezuela. Chi glielo fa fare di andare a queste elezioni? Perché non può semplicemente trovare una scusa fasulla, cancellare le elezioni e per altri 12 anni continua a governare lui. Si diceva che Maduro volesse la legittimità internazionale, lui detestava non essere invitato ad Avos, detestava non poter parlare all'ONU, detestava avere la stessa macchietta che avevano i Castro, per esempio. Lui voleva essere come Sisi, il presidente dell'Egitto, che ovviamente abbiamo enormi dubbi sulle sue credenziali democratiche, però in qualche modo continuiamo a chiamarlo presidente, continua ad andare a parlare da tutte le parti, lo ricevono all'Eliseo e Maduro voleva essere come lui. Ora, quello che è successo settimana scorsa ci fa capire che Maduro è disposto a diventare come Castro, a diventare come Daniel Ortega qua a Nicaragua, a diventare come la Norcorea pur di non abbandonare il suo potere. E quindi ovviamente gli equilibri sono estremamente diversi. Non penso che Maduro possa mai più avere lo stesso tipo di riconoscimento che ha appunto un Sisi o altri leader mondiali con questionabili credenziali democratiche, ma che comunque vengono accettati nei circoli della politica internazionale. Ormai Maduro ha fatto capire che è disposto a rimanere lui da solo, pur di rimanere al potere. Prima di arrivare ai consigli, vi ricordo che la mail di Globo è globo-post.it, vi ricordo di attivare le notifiche, di consigliare questo podcast alle persone a cui pensate potrebbe interessare e diffonderlo sui social. E adesso Stefano Pozzabon ti chiedo tre consigli, libri, film, podcast, serie tv, musica, che ti hanno ispirato e vorresti suggerire. Sì, allora, il primo consiglio, non so se come si chiama in italiano perché è un libro che non è mai uscito in Italia, però c'è sia in spagnolo che in inglese. In inglese è Dragon in the Tropics, in spagnolo Il dragone nel tropico. È un libro di Javier Corrales e Michael Penfold, lo trovate anche su Amazon Italia. È un libro che penso che la prima edizione sia del 2012, è stato uscito diverse edizioni, riaggiornato, ma penso sia l'analisi più lucida delle politiche socio-economiche di Chavez e poi ovviamente per capire Maduro, che è essenzialmente, nel mio caso, essendo io una persona che è cresciuta in ambienti della sinistra italiana, che è cresciuta con un certo tipo di valori, che è venuta in Venezuela con certe aspettative e che queste aspettative non sono state confermate da quello che ho visto, volevo capire perché si parlasse di sinistra qua in Venezuela, perché di sinistra non ho visto molto poco qua. E quindi lì lo spiegava bene su come il sogno di Chavez in realtà era assai poco un sogno marxista o lavoratori al potere. Chavez era, lo Stato guadagna un sacco dal petrolio, io uso la ricchezza dello Stato come clientelismo e tutti siete contenti, nel frattempo io continuo a governare. E quindi mi sembra un'analisi estremamente lucida e lo consiglio soprattutto a chi, come me, ha una traiettoria di progressismo, una traiettoria di ambienti del centro-sinistra, una traiettoria di essere interessato a cosa si muove, un po' più in là della notizia. Il secondo consiglio è un film che è uscito l'anno scorso, si chiama Simon, in Spagna, America Latina e negli Stati Uniti è stato distribuito da Netflix, ho controllato, in Italia non è disponibile su Netflix ma è disponibile sul sito del film Simone the Movie, S-I-M-O-N-T-H-E-M-O-V-I-E.com ed è un film sulle repressioni del governo durante l'ondata di protesta del 2017. Penso che ovviamente nessun film ha la storia completa, è un film drammatico quindi non è un documentario, non è un lavoro giornalistico, non vuole esserlo, però penso che sia un bellissimo ritratto di come una generazione di attivisti anti-Maduro abbia vissuto quelle proteste violente dove sono morte più di 150 persone che hanno scaturito un esodo migratorio mai visto prima nella storia dell'America Latina e quindi penso che sia un modo per ricordarsi quanto alta sia la posta in gioco. Cioè che qua in Venezuela davvero, sì, non è il Medio Oriente, non è l'Africa dove appunto purtroppo di persone ne muoiono molte di più di qua, però anche qua appunto ci sono stati diversi morti, c'è gente che ha davvero dato la vita per un ideale. Il terzo consiglio è una mostra fotografica da cui poi è uscito anche un libro di una persona a me molto cara, Fabiana Ferrero, che è una giornalista che penso che meglio di chiunque altro abbia potuto ritrarre l'esodo migratorio del Venezuela. Cioè la ferita emotiva e fisica di vedere 8 milioni di persone abbandonare il proprio paese. 8 milioni è il 25%. Cioè immagina che come se da noi in Italia, in Italia siamo 60 milioni, nel giro di 5 anni 15 milioni di italiani se ne andassero. Sono cifre davvero enormi, spaventose ed è una ferita emotiva, psicologica, sentimentale ma anche una ferita fisica che tocca ogni famiglia del Venezuela. Questa mostra è uscita l'anno scorso a Parigi, ci è stato fatto un libro, è stato sostenuto dalla fondazione Carmignac, che è una fondazione francese e il libro anche quello lo trovate su Amazon in Italia The Wells Run Dry. I pozzi si esauriscono, i pozzi sono secchi. The Wells Run Dry di Fabiana Ferrero e il mio terzo consiglio. Stefano Pozzébon, grazie. Grazie a voi, grazie a voi.